buon pomeriggio a tutti fa ancora molto caldo quindi vi ringrazio per il coraggio che avete avuto a venire qui naturalmente l'intervento è molto molto interessante e quindi con grande piacere che chiamo sul palco julia cagé e angela scipione interprete so hello thanks thanks a lot for coming I am so sorry I am not able to speak italian in fact recently you know I just learned three words salvare e immedia but I will try to do better next time so this talk will be based on the book I first published in French one year and a half ago and that is now published in English and obviously in Italian and I think the the departure point of this book is really a conviction and this conviction is that information this information that you can find in newspapers is providing a public good and that information is a public good the same way education provided by university is a public good and the reason why it is a public good it's because this good is useful in times of election when you go and vote you want to be informed in general when people they define democracy they say democracy is about one person one vote but in fact democracy is about one informed person one vote if not this is about an autocracy you can even think about the recent case of the UK with the Brexit just after the pool just after the election and the majority was for the yes people said okay it was a big mistake we should have and another vote because we was misinformed in the first time and the couple of newspapers they said we are responsible of that we didn't give enough information to readers so you see how important the information the information provided by newspapers is the key point ah sorry so sorry Julia for not speaking Italian I am very happy to be here and he will be here and he will talk about today and he will talk about the argument in his book published a year and a half ago in France then it is released in English and this year it is edited by Bonpiani that is called Salvare Media and now the his thesis is based on the fact that information is a well public public as well as the education and the formation and the education and the formation and that like universities the media devono fornire information accurate especially in the time of election it is indispensable that we have information precise and that the people siano informate per cui un voto deve essere un voto informato si è visto un esempio di questo nel Brexit in Gran Bretagna che subito dopo il voto tutti dicevano che avrebbero votato sì se avessero capito se fossero stati informati di che si trattava e di quali erano le conseguenze ok ok so as you will see in this talk information is at risk I'm not going to take to talk here about developing countries but even in some like richer countries and I am thinking about Turkey especially you see today that there is a real threat on press freedom what I'm going to show you is that even in developed countries and we are going to talk about France about the United States about Italy of course even in these countries there is a threat on the quality of information provided by the media and given that I am an optimistic person I'm going to propose you a solution which is a new kind of entity the non-profit media organization that is intermediate in status between the foundation and shareholder companies ok oggi non parlerà dell'informazione nei paesi di sviluppo ma nel mondo diciamo occidentale parlerà di Stati Uniti e Europa in particolare Francia in Italia vediamo la situazione oggi per esempio come in Turchia le molte restrizioni imposte sui media lei invece parlerà di un nuovo tipo di entità che sarebbe non profit media organization cioè un'organizzazione non a scopo di lucro che gestirebbe i media so this is a broad roadmap of what I'm going to present you the the I am going to begin with the state of the media and as you will see this will be the pessimistic part of the talk ok because the state of the media is not so good then I am going to spend a lot of time on a new reality the fact that an increasing number of billionaires are buying the media in all the democracies around the world so perhaps in Italy you know you are all used of Berlusconi so you think this is a normal thing to have a billionaire doing politics and having media at the same time but in a country like France or in the US it was not so usual and this is a very recent trend like in France it just began in 2010 and during the last 60 years all the media have been bought by just three or four billionaires ok and then we will turn to my solution to save the media which is a non profit media organization ok parlerà un po dello stato dei media oggi e poi passerà più tempo a parlare dei nuovi baroni della stampa dei media se se questo poteva essere una soluzione è una cosa da affrontare quindi in italia per tanti anni c'è stato una situazione in cui c'era Berlusconi che era sia un uomo politico che un uomo che era maggiore azionista di aziende che gestivano e gestiscono la stampa e in Francia e non era molto usuale fino a circa 2010 e negli ultimi sei anni ci sono stati situazioni in cui adesso tre o quattro miliardari hanno preso cominciano a prendere controllo della stampa nazionale so let's begin with the state of the media and I have to say that the very first thing that is striking and that explain why this industry is in crisis is that advertising revenues are decreasing and here you have advertising revenues over all the different kind of support so how much an economy has a whole is spending on advertising ok advertising in newspapers but also on TV on radio in theaters outside advertising ok how much us as citizens we spend every year on advertising and as you can see here you have the US you have Germany you have France this has been decreasing since the last 20 years and if you look at Italy you see that you have the exact same results decrease in advertising spending since 2000 by the way as you can see in the case of Italy so before I worked on Italy I was working on France and I was seeing every time I was looking at this data at least in France we rely a little bit less on advertising so this is a pretty good news because we are going to suffer less from the decrease and then I decided to analyze Italian case and from this point of view you are doing even better you rely even less on advertising advertising this around 0.5% of Italian GDP every year but we see the same exact trend either in countries with a lot of advertising like the US or in countries with much less advertising like France and Italy everywhere as an economy we spend less money on an annual basis on advertising in questo grafico lei ha fatto un sommario di quanto si spende per la pubblicità su tutti i media diciamo i media è un po in crisi per a causa della diminuzione dell'investimento pubblicitario praticamente su tutti i supporti l'ultima l'ultimo grafico è riflette l'Italia e dice che in Francia la crisi è stato meno notato perché nel globale spendono meno soldi in pubblicità nei media e rispetto ad altri paesi comunque ha visto che anche in Italia quando ha studiato la situazione italiana ha visto che anche lì rispetto abbastanza la situazione francese che sono le ultime due righe so then you 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 can ask me why in a sense you know we see advertising everywhere I was looking for some sponsors around but there is no so this room is a bad example okay so the sponsors are over there so there is advertising everywhere okay more and more in the street on tv on radio even in newspapers like newspapers these days are full of advertising and and despite that I am telling you that we spend less on advertising than in the past and the thing is there is a decrease in the price of advertising this is kind of simple economics the demand for advertising is limited like firms they want to advertise up to a point but today with all the different support and think in particular about the internet the space to advertise is limited you can advertise everywhere there are like million pages on the internet where you can put advertising so the price of advertising is standing toward zero so you put more 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 and more ads but for the media money they make from advertising is still is still decreasing Lei cerca di spiegare questa diminuzione dell'investimento pubblicitario sui media e i prezzi innanzitutto sono scesi i prezzi della pubblicità a causa dell'incremento degli spazi pubblicitari oggi disponibili sui mezzi di informazione tipo internet che è uno spazio senza limiti se c'è molto più competizione come vedi nel primo punto che ci sono più organi di media e ci sono anche social network come twitter e facebook che quindi hanno portato una diminuzione nei prezzi pubblicitari e quindi anche una diminuzione dei ricavi pubblicitari di questi media qual è la fetta allora dedicato ai giornali perché è questo che vuole analizzare adesso and let me show you some numbers so these are the numbers from the US because I don't have similar decomposition for for Italy but my best guess is the trends will be similar so here you have advertising spending but by support so the red line for example is television the yellow line here there are newspapers so historically we are spending more on newspapers ok then you see the entry of new media television there is competition between both media support and you see that today there are more advertising on TV than in newspapers and this is a big drop you know in how much people pay to advertise in newspapers what is missing here and is really striking in time in terms of overall trends is the increasing importance of the internet the new black line ok and what you see here is that at some point the internet will be the media support on which we are going to spend the higher amount the highest amount of money which is in fact already the case for France so you know the overall trends for the US and France are similar but for France as of today in 2016 we are already spending more money on the internet than on TV not speaking about like newspapers when you see like a very strong collapse 상igung of SARE This graph represents the investment publicitarians this graph represents the investment publicitarians on the inventory, television worldwide, television, r Lowes, radio, iter Connecticut and theater The red red represents the television full television and then red red represents the red r também which is están dei giornali which are the hvorw yay You see an increase then decrease the pay Czech- fe Laden pubblicitarie sui giornali, mentre l'ultimo è l'investimento su internet che nel caso della Francia ha già superato l'investimento pubblicitario in televisione. In Italia, voi potete dire, ma tutti i giornali oggi sono su internet, quindi potremmo non rendono l'argento della versione printe dei giornali, ma dovrebbero rendere l'argento online. La cosa che è davvero straordinaria, e infatti dovremmo combattere l'attività in un senso, è che su internet c'è un numero di ragazzi, praticamente oggi c'è 4 ragazzi, soprattutto 2, Google e Amazon, che sono capturando tutti i riempiti di riempiti di riempiti di riempiti. Solo per dare un numero, Google solo, una firma, è capturando 30% di riempiti di riempiti di riempiti di riempiti di riempiti di riempiti. E Google non produrre nulla, Google non produrre contenuti contenuti. Google è stilizzato il contenuto prodotto da giornalisti, lavorando per i media. E questa sola firma è capturando una terza delle tue delle riempiti di riempiti di riempiti di riempiti di riempiti che sono disponibili online. E questo è un problema che non siamo iniziati con direttamente oggi, ma per il futuro dei media. dobbiamo pensare come un problema per risolvere. Se hai firma come Google e Facebook che solo usano il contenuto prodotto da altri, poi almeno dovrebbero pagare le tue delle tue in Europa. C'è una quota sempre più bassa destinata ai giornali, perché Google e Facebook da soli catturano più di metà dell'investimento pubblicitario sul mercato, in futuro ci sarà anche Amazon. Google in particolare prende un terzo dell'investimento pubblicitario, mentre non produce contenuti. Utilizza contenuti, ruba infatti contenuti prodotti da giornalisti e pubblicati su altri mezzi. Quindi ecco, la differenza è appunto che Facebook e Google non producono contenuti e non pagano tra l'altro tasse in Italia o in Francia. Quali sono le conseguenze di questo drastico abbassamento dell'investimento pubblicitario nei giornali? E la prima conseguenza, sai, è il grande diminuzione della dimensione della giornalità. Un paio di numeri di giornalisti. E io voglio chiarire che questo è un problema clave per la democrazia, perché da volte a volte siamo un po' più optimisti sui media, e credo che i robot in futuro poteranno fare tutto, e che i computatori stanno produrere un articoli. Ma alla fine, senza giornalisti, non avete informazioni. E soprattutto non avete informazioni. Ci siamo necessari, come cittadini, quando votiamo. Ok? Questo non è un robot che va investigare per vedere se il governo sta fare il lavoro bene o se ci sono problemi di corruzione. Per questo bisognavi un giornalisti. E il grande problema è che, face con questa diminuzione di investimento, perché i giornalisti hanno deciso di fare i giornalisti. E poi non stanno producendo più le informazioni che bisogna. Ok, per avere informazioni bisogna avere, diciamo, la sala stampa, bisogna avere giornalisti. Quindi una grave conseguenza di questa riduzione dell'investimento pubblicitario nei giornali è proprio la diminuzione del numero di giornalisti impiegati. Quindi, specialmente per il giornale stampato, senza giornalisti non c'è informazione. E questo è particolarmente importante quando si arriva al momento di votare, perché si parla spesso che i robot possono distribuire notizie e fare tanti lavori, però non possono produrre le informazioni e che possono informare le persone. Ci vogliono i giornalisti. Quindi, vorrei mostrarvi alcuni numeri sulla evoluzione del numero di giornalisti. Questo è il caso della Francia. Quindi, questo comincia, non essere troppo optimistico, questo comincia al fine del secolo 19, 1880. Ok? Quindi, overall, over più di 150 anni, c'è un aumento del numero di giornalisti, come da meno di 5,000 nel secolo 19, a più di 35,000 ancora di oggi. Ok? Quindi, storicamente, la tendenza è buona. Ciò che non è buona, è quello che sta succedendo oggi, e quello che inizia in 2010. Since 2010, ogni anno in Francia, c'è una diminuzione del numero di giornalisti per 1,000 anni. Ok? 1,000 meno di giornalisti di lavoro ogni anno. Quindi, siamo nel 2016. Se guardiamo il futuro, e nulla cosa succede nel tempo, questo è quello che il futuro può sembrare. Una diminuzione constante nel numero di giornalisti, e poi questo avrà conseguenze sulla qualità dell'informazione. La tendenza negli anni che questo grafico rappresenta l'evoluzione del numero di giornalisti in Francia, dal 1880 ad oggi e oltre. Comunque, la tendenza di crescita è positiva, però si arriva poi al 2010, in cui, anno in cui, si nota una diminuzione di 1,000 giornalisti all'anno. e quindi, se continua su questa tendenza, vedremo sempre una costante diminuzione nel numero di giornalisti operativi in Francia. Se guardate negli USA, questo è ancora più peggio in termini di trend. Se guardate negli USA, nel 2008, il numero total di giornalisti in gli USA è 55,000. Ma come oggi, è sotto 35,000. In 8 anni, gli USA ha già perduto 20,000 giornalisti. Un enorme rischio in questi numeri. e quindi, la prima cosa è la prima cosa, la prima cosa è la prima cosa, la prima cosa è la prima cosa, la prima cosa è la prima cosa. Questi sono i giornalisti operativi in gli USA. E, vedete, i trendi sono completamente corretti. Ok? La risposta che è stata portata da una società media per compensare la diminuzione in rinunzioni, soprattutto i giornalisti operativi, era per incontrare giornalisti. ma poi la domanda è dove è la soluzione. Perché posso dirvi che i giornalisti operativi non aumentano nel futuro. La diminuzione dei giornalisti operativi sicuramente continuerà. Ma non penso che ciò che vogliamo è il declinamento nel numero di giornalisti che continuano. Ok, questo rappresenta il numero di giornalisti negli Stati Uniti che lavorano per i quotidiani. E qui la situazione è ancora più preoccupante perché dal 2010 si vede 55 mila giornalisti e oggi siamo a 35 mila. Quindi in otto anni abbiamo visto una riduzione di 25 mila. c'è comunque anche una stretta correlazione tra il ricavo dell'investimento pubblicitario dai giornali e il numero di giornalisti impiegati. Qual è la soluzione? Sicuramente non un incremento nel ricavo proveniente dalle pubblicità perché non ci sarà nessun incremento. Ci sarà, bisogna studiare un'altra soluzione. C'è un'altra domanda dove c'è questa diminuzione? C'è una diminuzione del numero di giornalisti e di fatto, abbiamo visto un numero di giornalisti che hanno appenappato o di una diminuzione del numero di giornalisti o di una diminuzione del numero di giornalisti e due fenomeni sono attenzionati. Non solo ci sono meno di giornalisti di oggi che ci sono ancora di giornalisti ma ci sono nuove giornalisti con pure online media, come le giornalisti che sono creati online. Ma la quantità della giornalisti e la quantità di giornalisti per media è diminuzione. e se riguarda le giornalisti per esempio in Italia la Repubblica e la stampa hanno appenappato loro gruppi editori di gruppi di giornalisti e questo è successo all'inizio di questo anno e sappiamo sicuramente che questo avrà avuto a un declinio nella storia della giornalisti di due giornalisti e credo che non so chi sta leggendo in questa giornalisti sia la Repubblica o la stampa o magari due giornalisti ti sentirei come leggere e ti soffrirai come cittadini Ok a che cosa è dovuta questa diminuzione nel numero di giornalisti? Si può supporre nella diminuzione del numero di organi di stampa cioè ci sono meno giornali e ci sono meno giornali stampati oppure si può pensare che ci sono meno giornalisti impiegati in ogni organo di stampa quindi meno giornali e meno giornalisti per giornale quindi l'ampiezza della cosiddetta sala stampa è diminuita poi parla della dei due gruppi editoriali che sono proprietari di giornali importanti italiani la Repubblica e la stampa che appunto hanno subito questa fusione e c'è la domanda se questo comporterà dei tagli nel numero di giornalisti impiegati di giornalisti questo è solo il caso di numeri di giornalisti per esempio questo è la storia di giornalisti di giornalisti in france vedete la stanza aumenta e poi diminua ma è molto vero per esempio questo è uno di giornalisti in france vedete di giornalisti in france l'express e come si vedete in 2016 in numeri giornalisti siamo tornati alla situazione della situazione 50 anni quindi questo non può essere senza conseguenze in termini di cosa possiamo leggere e apprendere come lettere di giornalisti credo e credo la maggiorità delle persone credo come me che i giornalisti sono utili che producono informazioni in giornalisti in 10 anni questo impatta il tipo di informazioni che producono nella tua giornata questi grafici rappresentano il numero di giornalisti per giornale in francia e c'è stata ovviamente in questi anni una grande diminuzione i giornalisti sono importanti è un'opinione che ha lei che hanno molte persone che forse un po' meno ce l'hanno le aziende che giustiscono i media ok i 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 e i 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 è un'informazione pubblica. In generale, un'informazione pubblica non deve essere produzione da una company che vuole maximizzare il profit. Guardate l'educazione, le scuole, le università. Non vuoi le scuole dove i bambini vengono a studiare a essere proprietari che vuole maximizzare il profit. In un senso, tu sei più felice con il governo, che significa che i tassi pagano per l'educazione e servono a questo pubblico. Il grande problema, come oggi, è che, in realtà, le compagnie media sono come altre compagnie con una strategia di profit maximizzare. Ok? Quindi, ogni volta che hanno meno reveni, hanno investito meno. E questo lede a un decreto numero di giornalisti. e ho bisogno di legare il fatto che molto di quello che ho mostrato, storico, come il decreto numero di giornalisti, è successo a volte quando le compagnie media sono ancora profitanti, ancora rendendo profit. Questo non è come se che non avevano una scuola, dicendo che, ok, stiamo perdendo l'argento, non possiamo pagare per il vostro valore. Si potrebbero pagare per il lavoro giornalista, che hanno fatto la scuola per maximizzare i dividendi che hanno dato al loro valore. Ok. Allora, adesso le leggi del mercato. Qui c'è una correlazione diretta tra il declino nel ricavo della pubblicità e nel numero di giornalisti. Ovviamente l'informazione è un bene pubblico come sono le scuole e dovrebbe essere importante pensare che sono un bene pubblico e non pensare al discorso di massimizzare sempre i profitti e distribuire dividendi agli investitori. Quindi anche se paga tasse per fornire le scuole ed educazione, che è un bene pubblico, non deve essere considerato come un'attività a scopo di lucro, ma come un bene comune. Quindi l'informazione deve fornire cioè i media deve fornire un bene pubblico. Quindi informazioni che sono gratuite, imparziali e di alta qualità che sono una cosa indispensabile per un dibattito democratico. Ok. So I'm going to go very quickly on that, but these are a number of examples and there are a lot in fact of Italian media that are just listed either on the blue chip segment of the Italian stock exchange or directly on the Italian stock exchange. But these medias, for example, RSC, Cotidiani, con il Corriere della Sierra, its aim is to maximize dividends because when you are listed you know you should send some dividend to your shareholders. and you have exactly the same thing in the US where you have like a number of media outlets, some of them are like between the most famous outlets in the world like the New York Times that are just listed, so aiming at maximizing profits and not at maximizing the quality of information. Okay. Here we have the companies quoted in the Bourse. Obviously, their goal is to make profits and distribute dividends to investors and investors, not to provide quality information. So what could be done? In fact, in a sense, you can find people that don't care about profits and that are still buying media. This was the case historically of this tycoon that was represented by Orson Welles in this famous movie Citizen Kane. Okay. And you have the Italian version of it, Berlusconi. I'm not going to detail, you know, all the media owned by Berlusconi, perhaps except my publisher, Bonpiani. But the good news is that, despite that, they decided to publish this book on the media. So at least I am happy with this side of the Berlusconi empire. Okay. All right. You bet, here it talks about companies quoted in the Bourse and also companies and I just wanted to say that these companies control, for example, Berlusconi obviously have three main channels through the media set the media set and then also the editor is a national company that publish books and journals and then there is also the Medusa Medusa Then, on top of it, so this is what I was trying to refer to at the very beginning about Berlusconi. This phenomenon existed for years in Italy but there is something new that is happening elsewhere. So for example, in France, you will have Patrick Drahi, Xavier Niel, these two guys, both of them are owning telecommunication firms and they are billionaires and they bought every single newspaper in France, more or less. So I think you all know Le Monde, Liberation, L'Express, like a news channel like BFM, a radio like RMC. I can give you a number of examples. These newspapers had different shareholders before 2010. Now they are owned either by Xavier Niel or by Patrick Drahi. in the US, you have Jeff Bezos. So perhaps you don't know Jeff Bezos but you should know Amazon, the owner of Amazon, the founder of Amazon. He bought the Washington Times. And something that just happened like two weeks ago and in the sense, this is where Europe is. So Greece that is still suffering from the crisis, you know, like other European countries, especially Germany but not only. France also is a part of responsibilities. The Greek government needs to make some money. And the solution they found is to set auctions to sell the national TV licenses. So just two weeks ago, you have a Greek ship owner that bought one TV license for more than 70 million euros. and you just have like four national private TV in Greece. So one out of these four, it's a big share of the TV market and it was just sold by the government to a billionaire that has nothing to see historically with the media sector. And I think we should not be happy with that and we should question the consequences it would have for the future of information in this case in Greece but you know something in the US or in Italy or with the example I just mentioned in France. There are always more examples of magnates and millionaires and millionaires and milliardaires that acquisiscono i giornali anche solo in Francia. negli ultimi quattro anni dei magnati nel settore delle telecomunicazioni hanno comprato virtualmente praticamente ogni giornale in Francia dal Le Monde alla Liberazione all Express. Abbiamo casi anche come Jeff Bezos negli Stati Uniti che è il fondatore di Amazon che ha comprato il Washington Post il fondatore di Ebay e anche lui John Henry che è padrone della squadra di baseball Red Sox ha comprato il Boston Globe. Un esempio che risale solo a due settimane fa in Grecia che sta ancora soffrendo della crisi ha lanciato un'asta per le licenze TV e un armatore greco si è giudicato una di queste quattro licenze con un'offerta di 73,9 milioni di euro. Questo non ha nessuna storia con l'informazione con il giornalismo con niente è semplicemente un miliardario. Ok, I'm going to jump over the slides where I explain you why it's like a pretty bad news. Let me just like summarize it in like two words. The very... the first reason why it's bad news it's because of politics. Some of these billionaires the reason why they buy media is to influence the election results. They want to make some politics. So take the case of Rupert Murdoch in the US at the same time he's financing Fox News and he's giving millions of dollars to the Republican campaign. Ok? So you know again back to one person one vote this should be what democracy is about one informed person one vote not about one dollar one vote. ok? First reason. And the second reason is that on top of that and this is new you have all these new billionaires that are not from the media sector for example they are from the telecommunication sector. and they don't care about politics. They don't care about having like a socialist party or a right party in the government. What they care about is to be sure not to suffer any regulation. They don't want to pay tax. They want to have monopolistic situation. Think about Amazon. ok? And these are the kind of things they can obtain much more easily when they own very powerful media outlets either newspapers, tv station, radio station, etc. Ok. Dice che questa commissione tra la politica e i media è una cattiva notizia effettivamente perché ovviamente il loro interesse è per influenzare l'opinione pubblica e quindi anche i risultati delle elezioni. Per esempio Murdoch che è proprietario di Fox News è un grande contribuente alla campagna repubblicana. E quindi adesso quindi il discorso di una persona un voto è diventato più un discorso di un dollaro un voto perché questi miliardari non provengono non agiscono in base a convenzioni ideologiche o perché danno valore alla diffusione di informazioni precise e imparziali però loro quello che vogliono ottenere è non pagare le tasse e soprattutto incrementare i loro profitti personali e togliere tutte le regi che regolano i loro movimenti. Ok. Quindi io voglio discutere la soluzione con voi e prima di presentare questa soluzione ma questo è possibile. Il libro è stato in france in febrari 2015 e ho lavorato con molti firmi media per cercare di implementare questo tipo di organizzazione quindi questo non è un sogno ok? Non ci siamo fatti insieme ci siamo provati a cambiare magari non il mondo ma almeno la forma che funziona la strada di media che funziona Questa organizzazione di media non profit è il nuovo modello che è intermedia tra le compagnie pubblico e le fondazioni e in un modo questo modello è inspirato dal modello delle grandi università che combinano attività commerciale e non commerciale ma ci sono molto più di questo modello in realtà ci sono due cose la prima cosa è di sicurare il finanziamento permanente per la industria media e il secondo punto è di limitare la decisione di scelta di servizio per costruire il loro potere usando le luoghi delle firme media Ok, il modello che propone è fattibile non è semplicemente un sogno il suo libro è uscito in Francia in febbraio 2015 da allora ha cominciato a collaborare con 20 aziende che operano nel settore dei media e stanno implementando alcune delle sue soluzioni quindi il nuovo modello si colloca tra l'azienda pubblica è la fondazione non profit ispirato al modello delle grandi università internazionali che combinano delle attività commerciali con attività non commerciali lo scopo è di assicurarsi i finanziamenti a livello costante e permanente e di limitare il potere decisionale di azionisti esterne quindi l'organizzazione non profit non profit è una compagnie non profit che significa tre cose devi investire ogni servizio di servizio back in l'organizzazione potre 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 огli potre potre ' potre 화 di usbira potre son tombano dove può pensare un potre es investirli non possono riconoscere il vostro money. Ma la buona notizia è che dato che questo è non profit, le investimenti sono deducibili da un punto di vista taxe. E in una compagnie pubblica, hai molti stockholders, tutti con i voti. Ma i voti non aumentano proporzionamente con i compagni della compagnie, che vi dettaglio in un minuto. Nell'azienda non profit, i ricavi, i surplus, devono essere reinvestiti nell'organizzazione stessa. Gli azionisti non possono ritirare il capitale investito, però questi investimenti sono detralibili fiscalmente. Come in una compagnia pubblica, ci sono tanti azionisti e ognuno ha il suo diritto di voto, ma questi diritti di voto non aumentano in proporzione diretta con il numero di quote della società. Quindi noi vogliamo molti diversi stockholders, e soprattutto vogliamo tutti i cittadini o giornalisti potrebbero contribuire alla la forma che la media è financata. Questo succede molto a volte con l'utilizzo di crowdfunding o di finanziare online. Quindi molti cittadini, pure online media, si vengono a questo sito di crowdfunding e chiedono per una certa quantità di monee. E i cittadini, potrebbero contribuire. Potrebbero 5 euro, 10 euro, 50 euro, 100 euro. La cosa è che, come di oggi, crowdfunding non ti dà alcuni voti. Ti dà alcuni voti. Non ti dà alcuni voti. Penso che è importante per ogni cittadino, ogni donore, ad avere alcuni voti. Ma non potete avere 1 milione o alcuni cittadini. Quindi, sotto un certo rischio, se volete contribuire per 5 euro, 5 euro, 10 euro, siete a partecipare per formare un'associazione. Quindi ci saranno tre idee qui. Questo sarà uno degli aspetti importanti della media media non-profit. Allora, posso seguire il modello del crowdfunding che ognuno dà un contributo secondo delle proprie esigenze e disponibilità 10 euro, 5 euro, 200 euro. Però, al di sotto di una certa soglia, questo contributo non dà diritto al voto. Però potrebbe dar diritto alla formazione di associazioni, quindi associazioni di editori, editoriali, associazioni di lettori. Quindi, a differenza del crowdfunding, del sistema di crowdfunding, hanno diritti, diventano come degli azionisti, non solo sostenitori. lo che è davvero importante è che, al di sotto di una certa soglia, diciamo, 10% dei fondamentali dei fondamentali, il vostro voto va aumentare meno di proporzionale con i fondamentali dei fondamentali. Lo che non ci vogliamo è che Jeff Bezos rinunciare e dire che non c'è problema, ci saranno contribuire, ci saranno molto dinero a questa firma media. Questo non-profit, non importa, sono un billionaire, io rendo tanto dinero con Amazon che posso dare un po' di fondamentali a una media, ma ho avuto tutto il potere. Ci vogliamo evitare questo. Ci vogliamo è una democrazia per proteggere le giornalistiche. Quindi, ciò che è davvero clare è che, above una certa sfida, l'investimento, per esempio, potrebbe avere solo un terzo di voto per share. Ok? You can put your money, but you won't be a law to decide everything. Allora, ci sarà anche, sopra una soglia, tipo, per esempio, il 10%, per non, diciamo, scoraggiare il sistema di grandi investimenti da parte di persone che non hanno interesse a mandare avanti o di votare, avranno un, diciamo, investimenti più alti, potrebbero avere magari solo un terzo del voto, del diritto al voto per ogni quota. e poi, la buona notizia per noi nella sala è che, sotto questa sfida se sei un investimento i voti rischi saranno aumentare più di proporzioni con il vostro capitale e, in a senso, dal punto di vista mio esperimento in Francia è fondamentale quando provi a creare un nuovo media diciamo, con solo 10 giornalisti hai bisogno di 1-3 milioni come capitale per impostare il vostro media e questo non potrete capire tutto con la fondazione chiamata o con le giornalisti se potrete 100,000 200,000 ma non potrete 1-2 milioni di euro quindi a un punto dovrete chiedere di più alti e dal principio credo è importante per limitare i diritti e aumentare i diritti e giornalisti come diritti e oggi per iniziare per aprire un'attività in media ci vorrebbero 1-3 milioni di euro però con questo sistema ci sarebbero molti più piccoli investitori che potrebbero il loro voto potrebbe essere diritto al voto potrebbe essere aumentato attraverso altri investitori esterni e 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 che ho capito questo modello, ovviamente non soltere tutti i problemi che i media face, ok? Especialmente credo che non soltere un problema clave, il fatto che i cittadini devono imparare di pagare online per leggere le informazioni, ok? Se non vogliono i billionari comprare l'informazione, credo che devi iniziare a comprare l'informazione, ma questa è la parentesi. Almeno c'è due attività principale, più di potenza democratica e un nuovo posto per le società di ragazzi e lavoratori. Credo che la riappropriazione democratica dei media, su una parte di quelli che producono le informazioni e su una parte di quelli che consumano le informazioni, invece di quelli che hanno abbastanza di pieno di euro per comprare il gioco democratico. E credo che, per salvare la democrazia che sta affrontando in molti paesi, ancora, anche in tutti i paesi sviluppati, dove le persone votano meno e meno, per esempio, come un grande declinamento del risultato, una delle prime cose che dobbiamo fare è democratizzare i media. Per concludere, questo modello non può risolvere tutti i problemi, però risulta in una condivisione del potere più democratico e in un nuovo collocamento per lettori e impiegati. Ha fatto caso anche che ognuno di noi può iniziare comprando le informazioni piuttosto che cercando sempre informazioni gratuite. E poi una riappropriazione democratica dei media da parte di coloro che producono e che consumano le notizie piuttosto che da parte di coloro che cercano di influenzare l'opinione pubblica ma utilizzare i loro soldi per influenzare i nostri voti e le nostre decisioni. Quindi, per salvare la democrazia, dobbiamo prima democratizzare i media. Grazie. Molte grazie, molto interessante ovviamente. Prego. Se potete cortesemente uscire anche chi è interessato all'intervento successivo per far entrare gli altri. Grazie mille. dove non intervino bisogna di parlarne, posso vedere l'interprete però. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. kt. ισbblblblbl. Questo fatto bene... Travola diciamo �. Grazie.